Ed eccoci qui a Capo Peloro. Ciao! Qui c'è il faro, il pilone, l'ispettatore del gruppo anti-covid della squadra specializzata e due più bei messinesi in circa 4 ore. In fondo c'è l'altro pilone, quello di Schiller. Siamo il 20... no, quanto ne abbiamo oggi? Siamo il 6 marzo e il 21. Sequestrati in Sicilia da ormai un anno. Non sapevamo cosa fare. E siamo venuti qui. Sì. 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 Sì.